In un momento caratterizzato da apprensione per il presente e angoscia per il futuro, la pace si conquista con la solidarietà, la volontà di dialogo, la collaborazione. Papa Francesco, nel tradizionale discorso al corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede in occasione degli auguri per il nuovo anno, richiama al generale bisogno di pacificazione di fronte a un terrorismo di matrice fondamentalista che, ricorda, miete vittime in tutto il mondo. Si tratta di una folia omicida che abusa nel nome di Dio per disseminare morte nel tentativo di affermare una volontà di dominio e di potere. Faccio perciò appello a tutte le autorità religiose perché siano unite nel ribadire con forza che non si può mai uccidere nel nome di Dio. Il terrorismo fondamentalista è frutto di una grave miseria spirituale, alla quale è sovente connessa anche una notevole povertà sociale. Esso potrà essere pienamente sconfitto solo con il comune contributo dei leader religiosi e di quelli politici. Di fronte ai rappresentanti dei 182 paesi con i quali la Santa Sede intrattiene relazioni diplomatiche, Francesco invoca poi il diritto di ogni essere umano di immigrare in altre comunità politiche e stabilirsi in esse, riconoscendo come nemica della pace quell'ideologia che fa leva sui disagi sociali per fomentare il disprezzo e l'odio e che vede l'altro come un nemico da annientare. Il problema migratorio è una questione che non può lasciare alcuni paesi indifferenti, mentre altri sostengono l'onere umanitario, non di rado con notevoli sforzi e pesanti disagi di far fronte a un'emergenza che non sembra aver fine. Tutti dovrebbero sentirsi costruttori e concorrenti al bene comune internazionale anche attraverso gesti concreti di umanità che costituiscono un fattore essenziale di quella pace e di quello sviluppo che intere nazioni e milioni di persone attendono ancora. Lo sguardo del Pontefice spazia dall'Africa all'Asia, dal Medio Oriente all'America Latina, dalle realtà carcerarie ai disastri ambientali. Ricordando il viaggio all'Esbo e la visita al grande campo profughi alle porte dell'Europa, il Pontefice ringrazia paesi e persone che accolgono quanti sono nel bisogno. Ripensa all'emozione dei ragazzi incontrati in Polonia per la giornata mondiale della gioventù, ma anche ai bambini privati delle gioie della giovinezza per le conseguenze di conflitti e sciagure umanitarie. Fa quindi appello alla comunità internazionale per un negoziato che ponga fine alle violenze in Siria. Ciascuna delle parti in causa deve ritenere come prioritario il rispetto del diritto umanitario internazionale, garantendo la protezione dei civili e la necessaria assistenza umanitaria alla popolazione. Il comune auspicio è che la tregua recentemente firmata possa essere un segno di speranza per tutto il popolo siriano che ne ha profonda necessità.